4.4 4.20 4.21 4.17 4.102 4.103 4.104 Non abbiamo aggiuntivi, per cui passiamo ora a 5 stelle. 4.5 4.16 4.100 Favorevole 4.14 4.15 4.4 4.20 4.21 4.17 4.102 4.103 Favorevole E 4.104 Favorevole Favorevole Perfetto Forza Italia Onorevole Sisto Grazie Presidente I nostri pareri saranno, come io mi auguro, sempre commisurati a principi che intendiamo affermare. Qui intendiamo affermare che le espressioni vague, quando poi si possono tradurre in provvedimenti afflittivi, non meritano avallo. Tant'è che il nostro leitmotiv è quello di introdurre la parola concretamente nei criteri di questo articolo 4. Pertanto sulla scorta di questo principio, la concretezza del conflitto di interessi, i pareri sono contrari 4.5, 4.16, 4.7, 4.100, 4.14... Chiedo scusa, 4.16, poi 4.100 4.7 ho detto Non è in fascicolo, è ritirato Benissimo, 4.100, 4.14, 4.15, 4.4, 4.101 parere favorevole, 4.20 parere favorevole 4.21 parere favorevole, 4.17 contrario, 402 contrario, 403 contrario e 404 invece contrario Onorevole Costantino Onorevole Costantino 4.5 Favorevole 4.16 Favorevole 4.100 Favorevole 4.14 Favorevole 4.15 Favorevole 4.4 Favorevole 4.20 Contrario 4.21 Contrario 4.17 Favorevole 4.102 Favorevole 4.103 Favorevole E 4.104 Favorevole Perfetto Passiamo al Governo Grazie Presidente Conforme al relatore di maggioranza Sospettavamo Perfetto Adesso siamo al 3.1 A cui aggiungo c'è il parere contrario alla quinta Commissione Se non vi sono interventi è contrario Sì